ragazzi ragazzi siamo all'ottantottesimo due minuti più eventuale recupero milan 0 newcastle 0 ma perché faccio così perché perché la finalizzazione in questa partita qua al milan per il momento perché si sta ancora giocando poi magari se la portano a casa è mancata perché il milan il primo tempo ha sottomesso il newcastle ragazzi io chiesto che una grande squadra per quanto mi riguarda perché il giocatore dice via ma oggi praticamente è venuta san siro per mettere il pullman perché questo è ragazzi ha messo il pullman cioè il milan avrà tirato sia no 14 volte di cui 7 nello spiego dalla porta solamente il primo tempo solamente il primo tempo quindi per questo al milan si deve mangiare le mani un leao sciupone perché sia nel primo tempo che nel secondo purtroppo si è mangiato delle occasioni il newcastle ragazzi veramente tirato poche volte nello specchio della porta un milan che poi tra l'altro perde pezzi e perde pezzi importanti perché nel secondo tempo escono l'off to cheek per l'infortunio muscolare e anche magnano a un certo punto sa cascia a terra da solo che non toccava palla da più di dieci minuti penso ma non so cosa sento tirare e dovuto uscire per l'infortunio primo tempo ripeto ragazzi dominio milan dominio milan mi ricordo le occasioni di pobega tiro da fuori aria parata di pop il tiro da fuori anche di crunici dove anche lì pop fa comunque una buona parata giro che combattina di rigore a un certo punto riesce allungare il piede sul pallone a calciare la palla e pop distinto larga questo braccio che comunque anche lì riesce a fare una buona parata teo hernandez di testa che purtroppo vuoi non vuoi la tira addosso a pop e anche lì pop fa un'altra parata posso continuare ad andare avanti ragazzi il cross per leao che leao poi la rimette al centro e anche lì non c'è nessuno per poter far male al portiere il cross per girù dove poi tenta di fare la semi rovesciata la palla non la prende continua a scorrere c'è su quelli dietro che di testa non riesce comunque a prendere la palla bene appunto non riesce a prendere la bene questa palla di testa e va altro spalla traversa l'off to chic che fa un'azione personale portando palla in contropiede tirando col destro un tiro fortissimo anche lì alto spalla traversa ragazzi come vedete vi avrò elencato 5 6 7 8 palla e gol e quindi ripeto è mancata è mancata la finalizzazione a questo milan nel secondo tempo non è che ho visto un newcastle più arrembante forse ho visto un milan meno arrembante perché nel secondo tempo ci sono state meno occasioni però non vi state a credere alla fine comunque le cose migliori le avute sempre il milan florenzi ha tirato comunque il testo ribattuto teo hernandez anche lui ha tirato un paio di volte anche lì i tiri sono stati ribattuti leao che di testa su un ottimo cross di florenzi a tu per tu col portiere a palla alta sopra la traversa perché leao comunque non inquadrà la porta leao che ecco nel primo tempo mi sono anche dimenticato si scarta quasi mezza difesa poi prova a fare un colpo di tacco si inciampa la palla comunque qualche mora di vascucuese che appoggia pobega pobega a botta sicura tira ma c'è comunque un difensore del newcastle che comunque salva la palla un po prima della mia di porta anche poi una superoccasione ragazzi quando non ti vuole entrare non ti vuole entrare però è un peccato perché quando tu hai questo newcastle così difficoltà in casa tua ne devi approfittare per fare i tre punti perché poi line in inghilterra non sarà questo newcastle sarà un caso diverso con la spitta del pubblico sarà tutta l'altra partita anche molto più difficile quindi per questo era fondamentale secondo me che tu oggi a san siro dato la prestazione che tu hai fatto molto positiva perché comunque giocato bene ti portassi a casa i tre punti e in questo momento non sta succedendo perché comunque l'arbitro dato 5 di recupero ne sono già passati due ragazzi e per adesso il punteggio sullo 0 a 0 e quindi è quindi veramente un peccato il Milan ha fatto fatica a trovare il gol in questa partita gli è mancato solamente quello ho visto molto bene Musa ragazzi Musa è entrato veramente molto bene al posto di off2cic infortunato un giocatore che entra poco entra poco nelle gerarchie di pioli ora come però vedendo questo Musa qua io lo farei giocare più spesso lo farei giocare più spesso perché comunque è un giocatore veramente molto molto interessante molto molto interessante poi ovvio c'è Terrippier che comunque un bel terzino che comunque ha fatto delle ottime chiusure anche adesso adesso su Musa ha fatto un'ottima chiusura molto bello comunque tonali romantico no che sia nel riscaldamento viene applaudito poi anche all'uscita standing ovation comunque nello stadio San Siro quello molto bello questo è anche il bello del calcio ragazzi tonali un domani a San Siro ci tornerà non so quando non so come ma San Siro Milano è legato a tonali e tonali è legato a San Siro quindi poi di un domani ci sarà di nuovo tonali al Milan per quanto mi riguarda è una mia opinione poi sbaglierò amen per il resto ragazzi ripeto pesano gli infortuni perché poi in campionata adesso avrai un off to cheek o un magnani in meno anche renders comunque appena entrato ha fatto un'azione solitaria ed è anche arrivata al tiro però arrivata al tiro forse un po' scarico o la palla comunque è rimasta troppo sotto al piede quindi non ha dato potenza al pallone e può per la blocca centrale però azione di renders è una azione veramente molto interessante mi ha sorpreso comunque Pioli col fatto che non ha messo Pulisic e renders dall'inizio però alla fine è una scelta che se vogliamo anche Giovato perché poi alla fine con Cucu Eze e Pobega al posto di rendersi e appunto Pulisic il Milan comunque ha giocato lo stesso bene perché le azioni ripeto si sono state create poi è mancata la finalizzazione di davanti è mancata solo quella ragazzi anche Giura pure un'altra occasione nel primo tempo su un cross alla sotera di Tehernandez Girutaglia bene verso il pallone tira a prendersene nella rete quindi le occasioni sono state veramente veramente tante 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 però ragazzi purtroppo quando la palla non vuole entrare niente se c'è la serata che la palla non ti vuole entrare attenzione qua tiro da fuori aria del Newcastle il tiro più pericoloso del Newcastle ragazzi arriva adesso al 94esimo il tiro del Newcastle arriva adesso al 94esimo bravo Sportiello a mandare in calcio d'angolo era un tiro centrale perché era un tiro centrale però comunque un tiro forte in porta e Sportiello si è fatto trovare pronto visto che comunque è entrato a freddo al posto di sostituire Magnan White Hernandez che ha perso palla però ecco Sportiello qua ha fatto un miracolo era una beffa clamorosa era beffa clamorosa se Newcastle l'avesse segnato adesso perché non se lo merita assolutamente non se lo merita assolutamente Newcastle la vittoria comunque c'è stata la parata di Sportiello quindi c'è la calcio d'angolo quindi Newcastle ragazzi chiuderà in attacco quindi Mina deve stare attento da questo punto di vista perché appunto non ci deve essere adesso la beffa all'ultimo all'ultimo minuto però comunque l'abito fa battere questo calcio d'angolo andrà Trippier seguiamo questo calcio d'angolo e poi dire che possiamo staccare il video perché la partita è finita ed è tanto ragazze appunto vi saluto poi succede qualcosa lo commentiamo se il video vi piaciuto lasciate un bel like mi raccomando commentate qui sotto nei commenti fatti dire per voi cosa mi piaciuta appunto di questo qua tra Milani ho chiesto di un po' la vostra questione commenti e soprattutto ragazze che si può piacere iscrizione al canale che fornitale non costa nulla e per voi tratto il vostro supporto basta fate clic su iscriviti e siete iscriviti sono fatto un ringrazio di cuore condividi anche il video con i vostri amici fate iscrivete anche loro e ti mette le notifiche così non per dire che usciranno in descrizione dovete anche il link delle barre di così channel e link anche dei miei profili social ragazze quindi se avete andato a me a seguire anche lì siete benvenuti e se poi vi conosco io comunque ricambio il segui e mi fa piacere sportiello qua smanaccia fuori sul cross di del giocatore trippier l'abito non fa battere l'altro calcio d'angolo perché il tempo è finito quindi ragazzi zero zero tonio cassero le mila bello iscriviti al canale